Fondi ed investimenti per e in ricerca. Il piano di ripresa e resilienza è un'opportunità perché il nostro paese cambi la visione della ricerca applicata alla clinica. I progetti ci sono ed anche i risultati. L'Istituto Veneto di Medicina Molecolare è una fucina di cervelli più che in fuga, trattenuti e intercettati dall'estero. La Fondazione Ricerca Biomedica Avanzata è l'anima dell'Istituto. Quanto con i fondi del PNR vi aspettate degli investimenti più consistenti? Questa è la domanda che ci facciamo anche noi perché vorremmo capire esattamente qual è la quota del PNR che sarà devoluta alla ricerca perché in questo momento non devolvere buona parte dei fondi per la ricerca vuol dire amputare il destino di questo paese. Dobbiamo restare e rimanere in posizione, essere sempre i numeri uno visto considerato che questo è un territorio che fa ricerca, che fa innovazione e nella sanità si vedono ovviamente i risultati. Si pensi che qui a Vim si costruiscono gli organoidi, i cuori in miniatura, i intestini in miniatura, si lavora con le cellule staminali, si fanno studi per il tumore alla prostata, per le malattie neurodegenerative e molto altro ancora. Questa è sanità che è una ricaduta reale nella cura dei pazienti. E quanto lei incarna sia l'impresa che la politica, proprio per le sue esperienze? Quanto politica e impresa devono camminare insieme per la ricerca? Dunque, guardi, questa è una domanda direi importante perché l'impresa deve saper dialogare con la politica e deve fare capire alla politica veramente quali sono le priorità. Perché di progetti, di idee, di possibilità ce ne sono tante, però bisogna fare una grande cernita, una grande capacità di analisi e non possiamo perdere le risorse per gli investimenti che non hanno un significato.